Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo del calcolo del comporto in malattia. Cosa dobbiamo sapere per non incorrere in situazioni spiacevoli? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buona serata a tutti. Giungono spesso domande riguardo ad un argomento che è una situazione diffusissima, abbiamo già avuto modo di parlarne, ma esiste come una difficoltà a cogliere alcuni aspetti che probabilmente non sono ancora diventati, come dire, cultura generale. Come noi sappiamo un lavoratore dipendente può, capita che si ammali e il datore di lavoro è tenuto per legge, codice civile, 2110, è tenuto a conservare il posto di lavoro. E quindi in qualche modo la legge grava sul datore di lavoro l'onere di sopportare il disagio connesso a un lavoratore che si è ammalato. Se non che la legge stessa dice che il periodo in cui il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro non è per sempre, finché uno guarisce. Ma se la malattia prosegue oltre un certo termine, il datore di lavoro ha la facoltà, non l'obbligo, ha la facoltà di poter risolvere il rapporto di lavoro, cioè licenziare, perché il lavoratore non è più utilizzabile, è troppo ammalato. Quanto dura questo periodo che nel linguaggio comune, nel linguaggio sindacale, come si chiama il periodo di comporto, varia in funzione dei contratti collettivi applicati nell'azienda al proprio rapporto di lavoro. Prima cosa pertanto, individuare bene quale è il proprio contratto di lavoro. Di solito uno lo rintraccia nella lettera dell'assunzione, se uno lo rintraccia nella lettera dell'assunzione, chiederlo al datore di lavoro, all'ufficio del personale, al limite uno si rivolge a un sindacato, attraverso la busta paga uno capisce che tipo di contratto si applica. All'interno del contratto esiste una norma che è la regolazione della malattia, il periodo di conservazione della malattia, e lì uno deve saperlo, non si può andare ad occhio. Cosa succede? Succede che il contratto, ad esempio, uno dei più diffusi, forse il più diffuso, quello del commercio terziario, prevede 180 giorni nell'arco di un anno, prevede 180 giorni, che non è tutti uguali, perché il contratto di meccanici è diverso, il contratto di tessile è diverso, il contratto di alimentaristi è diverso. Ad esempio questo contratto prevede 180 giorni nell'arco di un anno. Prima cosa, tutti ormai i contratti non prevedono 180 giorni per malattia, ma prevedono un periodo di sommatoria di tutte le assenze per malattie che si vengono a formare nell'arco di un certo periodo. Il contratto, in questo caso del commercio, prevede nell'arco di un anno. Il termine anno vuol dire 365 giorni. Se oggi, ad esempio, siamo a mesi di aprile, vuol dire che sono da aprile di quest'anno all'aprile dell'anno scorso. E' un po' come fosse una coperta, che uno tira e più viene avanti, più si scoprono i piedi. Per cui voglio dire, il periodo di 365 giorni non vuol dire gennaio-dicembre, ma vuol dire il periodo da oggi indietro di 365 giorni. A questo punto uno deve sapere quant'è il proprio periodo di conservazione, saperlo e contare, tenersi a mente, precisamente, quanti giorni fa di malattia, soprattutto quando non è una malattia occasionale, ma sono malattie a volte lunghe, a volte gravi, a volte ripetute. Allora, primo, tenere sotto controllo il proprio periodo di malattia. Allora, attenzione, quando si calcolano i giorni, si calcolano tutti i giorni, anche le domeniche, anche i festivi, non è solo il giorno lavorativo. Se uno arriva a ridosso e non è ancora in grado di tornare a lavorare, consiglio di chiedere l'aspettativa, molti contratti, quasi tutti i contratti, prevedono un periodo di conservazione ulteriore del posto, ancorché senza indennità. Periodo di conservazione ulteriore del posto, che va chiesto prima della maturazione del periodo di comporto, non dopo, e magari dopo addirittura che uno è già stato licenziato, deve essere fatto. Il periodo deve essere chiesto prima, eventualmente, cosa succede? Se uno sta molto malato e magari ha ferie arretrati, periodo di permessi arretrati, prima della maturazione del periodo di comporto, chiedere il godimento di ferie, chiedere il godimento di permessi di riduzione orarie, permessi contrattuali, in modo da poter proseguire il proprio rapporto di lavoro. Quindi, in qualche modo, l'elemento fondamentale è non dire, attenzione, tanto parte l'anno nuovo, parte il gennaio, ricomincio da zero. Non è vero. Il periodo per sommatorio si fa come... Voi immaginate la coperta. Io tiro la coperta, ad esempio, tipo commercio, 365 giorni e da oggi indietro di 365. In questo periodo non devo superare i 180 giorni, perché se lo supero, il datore di lavoro può legittimamente risolvere il rapporto di lavoro. Grazie. Tutti spesso sentiamo parlare di pignoramenti o espropri di un immobile. Abbiamo chiesto all'Avvocato Bortolotti di chiarire quali sono gli aspetti più rilevanti. Parliamo di un argomento molto, molto conosciuto e che ha un'importanza rilevante nell'ambito della dimensione giudiziaria italiana, che è l'universo dei pignoramenti immobiliari, quindi degli espropri, cosiddetti espropri degli immobili. È chiaro che tutti noi ne abbiamo sentito parlare, è un'eventualità di cui si sente discorrere spesso e che a volte purtroppo coinvolge anche persone che conosciamo. Oppure ci troviamo noi nella posizione di dover recuperare degli importi e di non avere altra via che quella di attaccare degli immobili che sono l'unico bene rilevante del nostro debitore. Cerchiamo di capire rapidissimamente che cosa succede in questi casi, perché non tutti sanno a che cosa si va incontro, sia se si è debitori sia se si è creditori. Il pignoramento nasce nel momento in cui chi deve recuperare un credito ha in mano una sentenza, un titolo che è definitivo, che sancisce che lui deve prendere quei soldi, che ha ragione lui e che il debitore gli li deve dare. In quel momento il creditore, colui che deve recuperare i soldi, scopre che il debitore è titolare di un immobile, ne è proprietario in pieno oppure di una parte e si rende conto insieme al proprio professionista che quella è la strada più agevole per poter recuperare il dovuto. Che cosa succede? Succede che viene notificato al debitore un atto di pignoramento immobiliare, è un atto molto preciso, molto analitico, che lo informa che è iniziato il pignoramento, sia la procedura di esproprio, proprio su quell'immobile che viene individuato in maniera molto precisa, anche dal punto di vista catastale, e il debitore capisce appunto che da lì in avanti inizia un procedimento, se vogliamo anche un po' lungo, che però è inesorabile, nel senso che porterà, nel caso in cui lui non paghi quello che deve pagare, che ovviamente nel tempo sarà cresciuto e crescerà ancora, porterà alla vendita all'asta del suo immobile. Cosa succede concretamente di lì a poco? Una volta notificato il pignoramento, il creditore si preoccupa, a mezzo appunto del proprio legale, di avviare il vero e proprio procedimento in tribunale, presso la sezione delle esecuzioni immobiliari. Cosa succederà? Succederà che viene disegnato un giudice, che si occuperà di questa procedura, il quale a sua volta, una volta verificati che tutti gli adempimenti formali e documentali sono stati posti in essere in modo corretto, incaricherà un perito, il cosiddetto CTU, che si occuperà di fare la stima del valore dell'immobile che è pignorato. Quindi noi che siamo debitori, subiremo inevitabilmente la visita di questo perito del tribunale che valuterà in maniera ovviamente un po' diversa da quella che è la valutazione commerciale di un agente immobiliare, valuterà il nostro immobile e ne farà una relazione al giudice. Una volta depositata questa relazione, il giudice incaricherà un delegato alla vendita, che molto spesso è un avvocato, il quale da lì in avanti si occuperà di predisporre le aste, quindi i procedimenti, gli avvenimenti veri e propri, nel quale l'immobile potrà passare di mano, potrà essere venduto all'asta e con l'importo potranno essere soddisfatti i vari creditori. Allora, è importante rendersi conto che il procedimento che ho illustrato così brevemente è lungo, sicuramente lungo, ma, come dicevo prima, comunque va avanti, è comunque inesorabile, quindi tanto per il debitore quanto per il creditore possiamo dire che il procedimento è lungo, ma alla fine funziona. Quindi noi, tanto se abbiamo un debito da soddisfare, quanto se abbiamo un credito da recuperare, possiamo guardare a questa procedura sapendo che sicuramente è una procedura lunga, è una procedura impegnativa, ma è una procedura che porta a un compimento, quindi il debitore non può pensare di rimanere dentro l'immobile all'infinito, perché nel momento in cui l'immobile viene messo all'asta, i giudici spesso e volentieri ordinano che per renderlo più appetibile sia immediatamente liberato e quindi ci sarà lo sfratto e il creditore comunque può avere sotto un certo aspetto la consapevolezza che pur volendoci del tempo, pur dovendo anticipare dei soldi, comunque la procedura potrà portare in determinate circostanze, ovviamente con l'assistenza assolutamente indispensabile di un legale, potrà portare eventualmente al recupero di tutto o di una parte del tutto. Anche per oggi abbiamo concluso. Se avete domande per i nostri avvocati potete scriverci avvocatirispondono chioccioleilcomizio.it Noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.